video leggermente diverso da quello che normalmente facciamo oggi parleremo un po più di politica recentemente iniziato a vedere i video di giopizzi che io apprezzo tantissimo giopizzi e colui che mi fa vedere un po diciamo il lato sinistroide dell'italia con ovviamente sopra me soprattutto i guardi video suoi quando parla dell'america il suo punto di vista molto interessante seppure non concordo con molte le sue opinioni perché in uno stato che è puramente socialista soprattutto cioè se guardiamo anche l'america implementare ulteriore welfare che è quello che di cui parla molto spesso secondo me non è la soluzione giusta e lo dico da persona che ha vissuto in cina che ha visto un sistema completamente diverso in germania in italia e adesso in america detto ciò è molto bravo in quello che fa è molto bravo nel mantenere l'altra attenzione la mia la mantiene sempre ora prima di iniziare a parlare qual è la mia posizione su tutto io come dico spesso su tik tok sono abbastanza neutrale e capitalista dal punto di vista di business ma concordo sul fatto che c'è bisogno di una piccola base se il capitalismo ti prendete risucchi e ti sputa fuori cioè se crolli ci deve essere un modo per farti rialzare però io sono pericolamente capitalista perché do la responsabilità all'essere umano io penso che l'essere umano a meno che non nasca con qualche difetto appunto non venga risucchiato dal capitalismo in modo totale ce la può fare se capisce sistema in cui lavora studia un po è curiosa e lavora detto ciò ragazzi una cosa che mi ha fatto diciamo un po girare ma ma anche interessato molto è un video dove lui parla appunto della guerra civile che potrebbe esserci in america che in effetti è vero il texas praticamente recentemente dopo aver ricevuto milioni di diciamo infiltrazioni da parte immigrati diciamo della sud america si sono rotti le balle perché biden non ha fatto niente il muro di trump non lo fare fatto biden recentemente ha fatto una uno reverse card dicendo ma magari il muro non era così sbagliata come idea ma lo stanno un po nascondendo come cosa perché appena sono entrati in governo hanno detto no al muro una stronzata e adesso piano piano sta dicendo magari non era così sbagliato però il texas si è rotto le balle a aspettare hanno diciamo detto sai che c'è ci pensiamo noi sì da punto di vista della costituzione era incostituzionale ma anche costituzionale allo stesso tempo questa è una cosa che gioco pizzi non ha menzionato praticamente uno stato ha diritto di proteggere il suo confine quindi a quel punto di vista è costituzionale ma in realtà è il lavoro federale e quindi sarebbe incostituzionale quindi è un back and forth un mezzo casino fatto sta che il texas ha iniziato altri venti passastati sono pasta da parte del texas hanno attivato la national guard per aiutare texas e si sta pure aggiungendo la milizia civile che sono le persone che grazie al secondo emendamento sono armate tra cui anche il sottoscritto però non faccio parte di quella milizia però sono anche io utilizzo il secondo emendamento lo ammetto e scendono giù per presentarsi che sono una cosa in america bellissima ricordiamoci che secondo emendamento americano non è stato scritto per difendersi dalle persone ma è stato scritto per difendersi dal governo tirannico quindi potete dire quello che vi pare ma tanti anni fa nella costituzione sapevano che prima o poi sarebbe successo perché l'umano che sia biden che sia trump che sia quello che vi pare può essere può diventare dittatoriale quindi la persona si può difendere dal governo quindi magari da un punto di vista illegale può sembrare veramente brutto ma nella costituzione c'è appunto scritto che ti puoi proteggere dal governo grazie secondo emendamento quindi torniamo a questo discorso qua la cosa che mi ha fatto un po girare che ha menzionato la cosa di cui parlato anche su più video ovvero la lawsuit diciamo l'attacco legale recente a donald trump a new york dove l'hanno incolpato e ufficialmente da questa judge da questa questo giudice l'ha incolpato e gli ha detto che deve pagare una volta di 355 milioni di euro e che è bannato da fare il business in nella città di new york per due e passa anni allora se sai che ne so pink o ballo che ne ha fatto niente posso capire questo ragazzino ok partiamo prima dalla lawsuit in sé è stato rappresentato e ha chiamato variate diciamo testimoni a parlare del suo business era lecito o meno tra cui le banche con cui lavorava lui nelle banche era considerato comunque un buon creditore pagava i debiti beh dolce banca addirittura ha sostenuto molto in questa lawsuit ha detto che comunque è stato molto bravo a pagare quindi dal punto di vista è stato molto giusto è stato attaccato sul fatto che il suo business non fosse fatto bene che si è arricchito solo lui che la gente che ha lavorato con lui ha perso soldi il suo business innanzitutto ha portato tanto lavoro a new york numero due ha costruito l'intera skyline di new york ci sono forse stato per donald trump e tutte le persone che lavoravano con lui tra cui altri palazzinari lo skyline di new york che vediamo oggi probabilmente non sarebbe mai esistito sarebbe arrivato più tardi o sarebbe stato diverso fatto sta che lui ha contribuito di brutto e adesso l'hanno cacciato ma la cosa che mi fa arrabbiare ancora di più è che giopizia non ha menzionato e che perché giopizia mente c'ha la sua idea e posso capire ma ci sono altri fattori di mezzo molto importanti tra cui quello che vi farò vedere adesso questo è uscito oggi the guardian che fa vedere come questo attacco alla fine era specifico a lui perché quello che ha fatto lui lui è stato attaccato per aver ma misrappresentato il valore dei suoi immobili per prendere più credito e così allora innanzitutto le banche hanno detto che in realtà ha fatto bene il suo lavoro ha sempre pagato e quindi anche le banche hanno fatto centinaia di milioni di dollari lui dal punto di 6 tasse a new york tra tasse di proprietà lavori dipendenti che pagano tasse tutto quanto ha pagato centinaia di milioni di dollari quindi c'è new york qui sta perdendo anche una bella revenue di soldi se tu bagni una persona per due anni ma poi soprattutto lo statement del governo di new york ovviamente quando tu attacchi un business owner così pesantemente con una fine così grossa con una multa così grossa coloro che sono nel settore real estate si cacano in mano dicono cazzo questo qui ci ha messo dentro milioni io faccio esattamente quello che fa questo qua che tra l'altro è legale cioè una cosa che giopizzi non capisce non vivendoci e non essendo investitori immobiliari l'america offre sgravi fiscali incentivi fiscali soprattutto investitori immobiliari perché perché l'america avendo bisogno di case porca vacca perché abbiamo un deficit di 4 milioni di case ecco perché i prezzi continuano a salire del blotto incentiva la gente che investe in case costruisce e le mette d'affitto ci fa quello che gli pare ti incentiva e quindi paghi meno tasse vabbè cosa sta che molti altri investitori come donatramp se sono cacati in mano dicono cazzo l'hanno fainato come può essere lui posso essere io davo se davo se scappavo andiamo via ciao bella chi se ne frega e lì new york si è caccata in mano già abbiamo perso uno che ci ha pagato centinaia di milioni di dollari perché l'abbiamo attaccato ma poi hanno confermato ci hanno confermato che hanno attaccato donald trump direttamente con questo statement clicchiamo record che questo è the guardian fantastico new york governor six to call business owner fears at trump running cioè notando che i business owners che facevano quello che fa trump stavano a cacà in mano dice a regà don't worry state tranquilli va tutto bene era soltanto un caso soltanto per donald trump cioè tu praticamente detto che questa cosa è fatta specificamente per lui anche se tu l'ha attaccato una cosa che fanno tutti e comunque non ha ascoltato perché alla fine i testimonio tutti quanti dal suo lato io mi sono guardato pure dall'osso tutto quanto perché la roba che interessa sto diventa se vado avanti così dentro legale pur io però detto legale pur io scusate un avvocato pur io cioè praticamente oltre aver attaccato in modo diretto hanno confermato dicendo che questo è solo un caso specifico era soltanto perché la donald trump una cosa che ha notato spesso che tratto mi fa arrabbiare sfortunatamente su quello che vedete nei medi italiani e io questo adesso lo dico dicendo che io non mi piace donald trump scusate a me non mi piace donald trump come persona tra un donald trump e un cresò robert kennedy al preferire un jfk però vabbè robert kennedy voterei robert kennedy tutta la vita però tra un donald trump e un vegetale io preferisco jonald trump perché sapendo che donald trump quanto vi piace è cattivo quello che ne pare so che almeno potrebbe negoziare ancora con un po di testa con queste persone questionabili come un putino xi jinping cioè se io ci metto un vegetale davanti so già che ho perso e lui rappresenta l'est cioè il west la western society la società la prima società la società forte cioè hai bisogno di qualcuno il cazzuto se c'è un vegetale si è messo male quindi non è che sono pro trump è che in questo momento se questa è la scelta cerco di essere un po più pragmatico cioè leviamo la politica di mezzo io non sono idealista ho votato un po tutti i lati nel passato io voto in base a quello che sa linea un po di più quello che sono e può aiutare lo stato a modo mio in questo caso la trump obama ad esempio me mi è piaciucchiato cioè non mi ha dispiaciuto jfk mi è piaciucchiato da quello che ha fatto quello che ha iniziato ma poi hanno abbattuto vabbè vediamo vediamo fatto sta che giopizzi bravissimo fantastico molto bravo in quello che fa e quello che dice però mi ha fatto capire quello che voi vedete in italia e la cosa un po mi dà fastidio perché posso capire che tutto quanto partisan partisan che i vostri media sono principalmente da un lato e che c'è un odio generale contro l'america però molte cose non vengono dette e guardando a punte media da entrambi i lati e giopizzi l'esempio perfetto a me piace guarda io comunque mi piace molto vedere giopizzi il suo punto di vista perché mi insegna molto ma ma ha fatto arrabbiare che non so se perché non ci ha avuto accesso a queste informazioni o perché ha voluto ometterle comunque ci sono altri dati di mezzo che spiegano bene la situazione di donald trump perlomeno qui poi ci sono altri casi possiamo parlare possiamo parlare del fatto che ha seppellito la familiare nella sua residenza per non pagare la property tax perché è diventato adesso un posto religioso queste sono le nuove leggi americane che è tra l'altro legale sta cosa è legale è legale la puoi fare è geniale poterici e dai e dai e dai miliardi o per questa cosa che non vuoi pagare tasse addirittura seppellisci la persona dentro la casa c'è capito roba esacerata quello possiamo dire quanto mi pare concordo pure io però qui se sono qui semplicemente per dare un po più informazioni un altro punto di vista su sto fatto di donald detto ciò ragazzi chiudo il video non vi vorrei annoiare troppo e ci vediamo la prossima ciao